Senatore, come giudica la reazione del Capo dello Stato alle dichiarazioni di Bianconi? Una reazione giusta ed opportuna. In realtà ci sono sempre più esponenti del centro-destra che stanno perdendo la testa. Per non parlare dei problemi del Paese, per non parlare del fallimento del loro governo e di questa maggioranza, stanno alimentando uno scontro istituzionale senza precedenti, con un attacco al Capo dello Stato che invece sta interpretando e custodendo i valori costituzionali con rigore, saccezza ed equilibrio. Eccessiva. C'è però una sostanza che in qualche modo ci divide dal Capo dello Stato. Lui ha vissuto la stagione della democrazia dei partiti. Si votavano i partiti e poi erano i partiti che facevano i governi. Oggi i governi li fa il popolo al momento delle elezioni. I cittadini scelgono il governo e scelgono anche chi quel governo lo deve dirigere. Poi in una legislatura possono succedere tante cose ed è evidente che le prerogative del Capo dello Stato entrano in gioco. Ma non può succedere che chi ha vinto le elezioni si trova all'opposizione e chi le ha perse invece si trova al governo.